Benvenuti in questa nuova puntata di Mentula Canis, lo show che non ha senso di esistere. Ma oggi è una puntata speciale, sapete perché? Sì, lo sapete perché avete letto il titolo del video, quindi andiamo avanti. Ma come funziona? Voi dovrete soltanto chiamare al numero qui sovrimpressione e una volta dati tutti i vostri dati personali potrete finalmente partecipare al quiz. Salve, allora lei è il signor Franco, giusto? Ok signor Franco, iniziamo con le sei domande. Le ricordo che se lei riuscirà a rispondere a cinque domande su sei, potrà vincere un bel... Aspetta un attimo... Un bel calzino usato. Allora iniziamo. Prima domanda. In chimica, per soddisfare la legge di Lavoisier, che cosa bisogna fare alla massa e alla carica elettrica? Bilanzamento, colibere da parte, porco Dio. Ottimo. Seconda domanda. Cosa significa questo cartello? Siamo in pericolo qua, col coddio. Siamo in pericolo. Domanda numero tre. Dove bisogna sedersi in una macchina inglese per guidare? La sinistra è ancora da capire, di qua, di qua, di sotto, sotto, porco Dio. Qua, la sinistra e qua, di là. Mettete là, mettete là. Mettete là. Mi dispiace signor Franco, la risposta è sbagliata. La risposta corretta è destra. Attenzione signor Franco, non può più sbagliare. Domanda quattro. Le curve durante un giro in automobile possono essere superate in quinta? Mettela prima, porco Dio! Mettela prima! La risposta non è sbagliata, ma chiederò alla regia se va bene. Ok, per la regia va bene Franco, sei stato fortunato. Franco, queste sono le ultime due domande. Ti ricordo che non puoi più sbagliare. Domanda cinque. All'accensione della macchina, quale marcia bisogna utilizzare? La seconda ci vuoi. C'è la madonna, madonna. Signor Franco, mi dispiace, ma ha sbagliato. No, 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 c'è la madonna. C'è Cristo, c'è la madonna. Ok ragazzi, la nostra avventura con il signor Franco termina qui. Franco, vuole salutare il pubblico? C'è la madonna, dai! Porco Dio! Ringraziamo il signor Franco per la sua cordialità e la sua pazienza. E noi ci rivediamo a una prossima serata. Faccio così perché, cioè, tipo, prendo la luce e poi, cioè, perché comunque quando prendo la luce io non... Guardando il riflesso che cosa non riesco più a vedere ma non c'è al cazzo. Se vedo AGT, son più sereno, il mio mezzo bicchiere è sempre pieno, posso prendere il cielo con una mano.